Ha preso il via oggi la tradizionale fiera di San Bartolomeo a Fano. Fino a venerdì 26 agosto più di 200 ambulanti provenienti da tutta Italia esporranno su via Dante Alighieri e Viale Adriatico prodotti e prelibatezze senza tralasciare le novità del momento e le famose cipolle. La nostra è la tradizionale fiera delle cipolle che sono dislocate proprio qui in Viale Battisti quindi rispettiamo la tradizione una tradizione che ricordo viene dal Medioevo e quindi una fiera veramente molto lunga e molto rappresentativa e molto tradizionale che quindi è importante che la città continui a rappresentare. Dopo la pausa durata ben tre anni torna lo spazio dedicato ai giovanissimi con la fiera franca dei ragazzi ovvero un mercatino del baratto che si terrà sotto la tensostruttura di Sassonia a partire dalle ore 14 e 30 fino alle ore 20 per il libero scambio di giochi, libri, fumetti e anche oggetti creati dai piccoli commercianti in erba. Dando la possibilità ai bambini di scambiarsi i giochi o comunque le merceologie che hanno, le cose che a loro piacciono di più quindi scambiarsele tra bambini incuriosendo anche creando comunità tra loro, creando partecipazione e questo arriva in un anno in cui abbiamo voluto valorizzare questo progetto della destinazione di città destinazione per le famiglie e per i bambini, una promozione importante che abbiamo fatto a livello nazionale e quindi nella città su ogni evento è stato rappresentato un momento dedicato ai bambini. Si può partecipare dai 13 ai 16 anni ma comunque tutti i bambini accompagnati da un genitore grazie alla collaborazione con insomma fanno città di bambini e delle bambine potranno recarsi sotto il tendone e dialogare con gli altri bambini in dei scambi sui loro oggetti personali. L'edizione 2022 della fiera di San Bartolomeo potrebbe essere l'ultima ad essere realizzata nella zona di Sassonia. Stiamo cercando di capire come la fiera può essere dislocata in modo migliore perché sappiamo che qui insomma ci sono delle problematiche che dobbiamo risolvere, una dovuta al passaggio dei mezzi che devono arrivare al porto, un'altra dovuta insomma al fatto che i nostri hotel in questo momento sono pieni e i turisti devono comunque arrivare nelle strutture ricettive e quindi stiamo pensando una nuova location ma ci sono dei ragionamenti importanti da fare. Ecco abbiamo ragionato di poterli spostare dalla zona porto fino alla zona lido, ci sono tante location che stiamo prendendo in considerazione ma quello che è importante è iniziare a dialogare con i cittadini, con i residenti, quindi con coloro dove vorremmo spostare la fiera con le associazioni di categoria, anche in consiglio comunale abbiamo detto vogliamo di allegare con i gruppi consigliari in modo che insomma la fiera è una cosa importante, occupa uno spazio importante della nostra città e insomma dobbiamo aprire un dialogo per capire qual è la soluzione migliore e poter continuare a fare una fiera, un momento della città che è molto tradizionale.